Banchi sotto gli ombrelloni? No, non siamo in un paese tropicale, ma in Abruzzo a Vasto. Complice la temperatura mite di fine estate, il ritorno a studiare non è avvenuto in un'aula chiusa, ma sulla sabbia. I primi a sperimentare insabbiamenti, il progetto ideato dal consorzio Vivere Vasto Marina e realizzato in collaborazione con il comune di Vasto, il Lido da Mimì e la Vasto Arredo, che ha fornito i banchi in linea con le normative anti-Covid, sono stati gli alunni della scuola Madonna dell'Asilo di Vasto. Questa è un'iniziativa che abbiamo incoraggiato con il consorzio simbolicamente per promuovere l'importanza dell'attività didattica all'aria aperta. Le scuole si impegneranno nel corso dell'anno ovviamente a fare lezioni outdoor, nei giardini, nelle aree esterne. Siamo soddisfatti, i bambini stanno facendo lezioni, adesso fanno ricreazione, quindi diciamo che si divertono e sfruttiamo questo spazio e l'aria aperta e il sole che sicuramente non farà male. Il progetto, che vede gli studenti studiare in riva al mare, è arrivato anche sul tavolo del ministro dell'istruzione Azzolina e potrebbe diventare una modalità creativa anche per ovviare alle problematiche del Covid-19. Le novità portano di per sé sempre riflessione, pensiero, dubbio. È normale che sia così. La realizzazione bella poi dell'opera porta di per sé i complimenti, i successi e gli applausi. Il mese di settembre e il mese di maggio sono i mesi molto belli dove c'è poca gente, dove la natura esprime la sua rigogliosità e la scuola insieme a questa grande risorsa che abbiamo potrebbe essere un'idea per la nazione. I lidi possono dare i servizi che sono indispensabili e necessari, quali i bagni o le prime necessità per i bambini. La cosa più bella è vedere oggi dei bambini felicissimi per questa prima esperienza. E che facciamo?